a tutti voi. Ecco, quello che volevo fare, volevo iniziare, perdonatemi, ma con un pensiero perché è un momento di lutto per tutti noi, sapete tutti la tragica evento che è avvenuto nella scorsa settimana e quindi mi sembra giusto da parte di tutti noi un pensiero al nostro maresciallo, alla perdita incredibile che ha avuto. Scusate, è un momento di commozione anche per me. Direi di fare dieci secondi di silenzio proprio per il ricordo della grandissima Patrizia che rimarrà sempre nei nostri cuori. Grazie Roberto, ringrazio a nome di tutta la famiglia, un abbraccio a tutti i colleghi, grazie ancora. Maurizio, non ho parole, ecco, perdonatemi e perdonateci tutti, ma ti siamo vicini, ecco, con tutto il nostro affetto di persone che viviamo la stessa passione, conosciamo te e conoscevamo la tua splendida morte. Bene, era giusto farlo, volevo farlo e volevamo tutti farlo, ecco, e quindi andiamo avanti, andiamo avanti e riprendiamo la nostra strada, riprendiamo appunto questo appuntamento sugli Scorer Winter Meeting, si avvicina all'inizio della stagione, quindi siamo un po' in chiusura anche di questi appuntamenti e ne abbiamo fatti alcuni, no, di taglio giornalistico a cura di Stefano Burlini e Mario Fedele, interviste che avete seguito sui personaggi di baseball e softball e abbiamo fatto un paio di incontri a contenuto tecnico, la caccia all'errore, ne parliamo un'altra ancora, the softball night, una serata a mio avviso veramente carina, divertente, che abbiamo fatto, dedicata esclusivamente al softball e stasera riprendiamo appunto con un altro incontro dove abbiamo dei video, speriamo stimolanti per la discussione e per l'approfondimento. Il formato è il solito, siamo ormai abbastanza, tutte persone, a meno che non ci sia qualcuno dei corsisti o qualcuno dei nuovi, il formato è il medesimo, quindi siamo tutti abituati a come funzionano queste cose. Vediamo come sempre in alto a destra la situazione iniziale che io però non vedo, datemi solo un secondo che riesco forse a mettermela un pochettino meglio, eccola qua. Vediamo la situazione iniziale, quindi ci sono le basi piene ed un out, è la parte bassa del decimo, notate l'inning, parte bassa del decimo. Beh, vediamoci questa azione e poi la commentiamo insieme. Come al solito daremo la parola a tutti per cercare di fare una discussione collettiva. Eccoci. grande esultanza in campo, la partita è finita, i Cardinals hanno vinto, era situazione di pareggio, parte bassa del decimo, la squadra di casa è in attacco, ecco, rivediamo la battuta, possiamo apprezzare cosa accade, vedete la palla rimbalza, in campo buono, il corridore della terza viene a punto, ecco, ci siamo un altro replay, però mi sembra la cosa abbastanza pulita, no? Il gioco abbastanza pulito, si tratta solamente di leggere bene l'azione e questo è abbastanza facile e soprattutto di applicare bene le regole che dobbiamo applicare nell'ambito di questa di questa azione. Io, come al solito, Stefano, se sei d'accordo farei subito un po' di un giro, no? Di opinioni, un giro di idee, no? Rendiamo subito la cosa abbastanza. Chat e mani alzate, naturalmente, certo, quindi qualcuno che voglia commentare o che abbia già un'idea di cosa scriverebbe sul ruolino, questo è il momento per dirci un'opinione, per darci un parere su cosa vorreste scrivere, su cosa pensereste di scrivere, insomma, ecco. Ce ne sono sei di video, quindi abbiamo opportunità per tutti, ecco, quindi. Partiamo da basi cariche, vediamo che è un walk-off e quindi abbiamo da sistemare diversi corridori, insomma, ecco. Che faccio è riflessibile che vedo, insomma, non riflettete troppo, qualcuno ci prova? Vabbè, se no cominciamo, dai, coraggio, intanto comincio io eventualmente a rompere un po' il ghiaccio se nessuno vuole misurarsi. Eh, me l'aspettavo, Marco, dai, bravo, Marco. Buonasera a tutti, mi sentite? Ciao, Marco, buonasera. Sì, è la prima volta che intervengo, rompo un lungo silenzio. Ma allora, grandissima valida sull'esterno sinistro, il quale corre come un disperato ma non ci arriva, perciò si accredita un singolo al battitore perché entra il punto della vittoria e in un'azione normale sarebbe stato almeno un doppio, visto che la palla è uscita, ma in questo caso, siccome bastava un punto per la vittoria, se non ricordo male, adesso non ricordo bene. L'uomo in terza entra il punto della vittoria, il regolamento dice che tranne in caso di fuoricampo che a quel punto si assegnano tutti i punti che entrano degli uomini sulle basi, fatto che abbiano toccato regolarmente il sacchetto e quant'altro, ma in questo caso si accredita un singolo al battitore, l'uomo in prima e in seconda avanzano per la battuta sul ruolino, entra il punto e si chiude lì l'incontro. Quindi, d'accordo, la tua disamina mi pare corretta, però questo è un evidente doppio per regola, secondo il regolamento, quindi dobbiamo conciliare un po' le due cose, doppio per regola oppure l'altra cosa che tu dici. Per conto mio sarebbe stato un doppio per regola se non fosse entrato il punto della vittoria, ma nel momento in cui entra il punto della vittoria il regolamento dice che si accredita al battitore un singolo o un doppio a seconda di quante basi erano necessarie per portare a casa il punto. Ci fosse stato l'uomo in seconda sarebbe stato un doppio per regola perché doveva fare due basi, quindi avrei accreditato il doppio, ma in questo caso mi sentirei di accreditare il singolo. Poi verrò smentito ovviamente da qualche... C'è qualcuno che vuole commentare oppure eventualmente abbia opinioni diverse o che altro? C'è un'altra mano alzata? Sì, abbiamo un'altra mano alzata, sì. Sono io, buonasera. Sì, ho visto. Ciao, buonasera. Concordo con quanto ha detto Marco, ma io vorrei fare una domanda. Come facciamo a stabilire che una regola annulla un'altra del regolamento? Questo è proprio... Tu non hai visto, Maresciallo, la nostra presentazione in anticipo di stasera e questo è proprio il nodo della questione. Questo è il nodo della questione che volevo portare all'attenzione di tutta la nostra... Perché vale l'una piuttosto che l'altra. Perché qui ci sono due regole. Giustamente una dice doppio per regola, l'altra, come dice giustamente Marco Vandi, il punto della vittoria è entrato e quindi non possiamo dargli due basi perché la partita termina quando entra il punto della vittoria. Quindi, come la dirimiamo questa cosa? Se non ci sono altre osservazioni, andrei alle linee guida, se non c'è nient'altro che qualcun altro vuole... Sì, direi di sì. La chat è pulita e non ci sono altre mani, quindi possiamo, credo, procedere. Andiamo dunque alle linee guida. Come vedete c'è il punto della vittoria, 1-2, ovviamente, anche sul nostro tabellone. Ed ecco le linee guida e i commenti. Come sempre, una parte più descrittiva è una parte più invece che fa riferimento alle regole e al comportamento del classificatore ufficiale. Quindi, noi abbiamo una volata in campo esterno con un out e punto della vittoria in terza. Questa è la situazione iniziale e la situazione, vorrei dire, della battuta, in senso stretto. Quindi la palla cade in campo buono e rimbalza fuori dal terreno di gioco. Quindi il corridore in terza segna il punto e la partita termina. La situazione e la descrizione di quello che è accaduto. Secondo noi, ecco, dovrebbe esserci, no? Abbiamo visto la battuta, un doppio per regola di campo. E la regola è chiara. Ciascun corridore, incluso il battitore o corridore, può, senza pericolo di essere eliminato, avanzare di due basi, due basi. Quindi se una palla battuta buona, quindi rimbalza nel campo buono, ed esce di rimbalzo o è deviata nelle tribune lungo la linea di falco. Questa è proprio la descrizione di quello che è avvenuto. Quindi questa regola 506B ci dice devi dare una battuta valida a due basi. Però il punto che entra dalla terza è quello vincente. Ed ecco che entra in campo l'opinione, anzi, l'analisi che ha fatto Marco Mandi. Qui c'è un'altra regola, la 906F, fa parte della regola 9, quindi più prettamente pertinente alle nostre iniziative, alle nostre azioni. Quando il battitore termina una gara con una valida che fa entrare tanti punti, quanti ne sono necessari per portare la squadra in vantaggio, erano in pareggio, quindi un punto è sufficiente per portare la squadra in vantaggio, il classificatore ufficiale accrediterà al battitore tante basi su valida quante ne è avanzato il corridore che segna il punto. Giustamente Marco ci dice, è avanzato dalla terza a casa base, ha fatto una base, io non posso dare più di una base al battitore corridore. Quindi, si assegna un doppio per regola o singolo per l'altra? Ed ecco la domanda fondamentale che ci ha fatto Maurizio Marescialli. Fortunatamente, la regola 906F ha anche un commento e in questo caso il regolamento baseball è chiarissimo. Questo dubbio viene chiarito immediatamente, è una fase dove, una parte dove il regolamento è assolutamente chiaro. Il classificatore ufficiale applicherà questa regola anche quando al battitore potrebbero essere assegnate più basi a causa della concessione di una valida automatica da extra base. Secondo le regole, guarda caso, la 506B4 che abbiamo appena citato in precedenza. Quindi l'antinomia, questa antinomia viene risolta, viene risolta dal regolamento in questo commento. Commento probabilmente aggiunto in versioni, in evoluzioni successive del regolamento perché probabilmente appunto qualcuno aveva proprio segnalato come ha fatto il maresciallo questo possibile conflitto fra due regole diverse. Quindi, non abbiamo dubbi e diamo pieno riscontro all'analisi che ha fatto Marco che è assolutamente perfetta a questo punto. Quindi, daremo una valida in campo 7 con tutti gli avanzamenti dei corridori che avanzano spinti dalla valida e il nostro suggerimento, visto che è comunque una valida che ha terminato la partita per regola di campo, aggiungere un GR, un Ground Rule che potrebbe essere un qualcosa di maggiormente specificativo di quello che è accaduto in campo. Commenti eventuali? Stefano riprendi il controllo perché stasera non ho proprio controllo per niente delle persone e della chat. Tutti silenziosi, vedo che osservano il Ground Rule chiaramente non è, come vi ha detto Roberto, niente di ufficiale ma è un'idea più che altro nostra. per il resto vedo che siete tutti molto silenziosi quindi va bene, direi che ci siamo. Cavoli, se si fa così finiamo prima del previsto stasera. Speriamo di no. Un'oretta la faremo. Va bene, passiamo al prossimo. Quindi come avete visto in questo caso il regolamento è stato chiarissimo e ci ha dissipato il dubbio che potevamo avere. Allora, qui abbiamo un'altra situazione dove prima e terza occupata un out e abbiamo un ball e due strike sul battitore. Quindi un out, prima e terza, un ball e due strike e guardiamoci il gioco. Anzi, qui c'è l'audio. Guardate, ecco l'altro. E' un'altra situazione taccio come sempre nella parte iniziale in modo tale che possiamo apprezzare senza distrazioni il gioco e rivediamo questa chiamata dell'arbitro che chiama out il corredore dalla terza. Quindi rivediamo un attimo. Lancio. Palla non controllata, recupero e chiamata di out a casa base. Guardiamolo fino in fondo poi magari apriamo le danze. Diciamo di rivedere, vai, che qui vedo tutti molto silenziosi. Ci sono diverse cose da guardare, credo, in fase preliminare. Quindi diamogli l'opportunità di riguardarsene. un out 1-2 il conteggio il primo e il terzo occupato. Il primo e il terzo occupato. Molte come il manager chiede un attimo di pazienza perché vuole capire se il suo addetto ai replay chiederà il challenge su questa giocata oppure no, ma mi sembra che alla fine del gioco decidono di non optare per il challenge, per fare il video e fare il video replay dell'azione. Eccola qua di nuovo. Cominciamo a parlare, che dite? Via, vediamo un po' se ora qualcuno comincia. Vincenzo. Ciao a tutti, buona serata. Ciao Vincenzo, buona sera. Sì, anch'io innanzitutto volevo associarmi al clinsirio di tutti per la patrizia. e quindi fare in convenienza ancora per la patrizia. Ascoltate, qua secondo me c'è, io stavo dando un lancio pazzo perché la palla batte per terra, non viene controllata per quello dal catcher che però poi recupera la palla, tira il lanciatore che fa l'out quindi secondo me è un colto bando 2-1 perché non c'è stata la battuta. Allora, un commento subito che questo sia un lancio pazzo nel senso della definizione dei termini di regolamento non c'è dubbio. Un lancio che tocca terra davanti al ricevitore è un lancio pazzo. Questo è obbligo. Poi bisogna vedere ai fini del classificatore se ha delle conseguenze oppure no. Quindi questa è un lancio pazzo pazzo oppure no. tuo opti mi sembra di capire per diciamo non considerare il lancio pazzo e se ho capito bene dare un colto rubando al corretore che viene dalla terza. Ok. Vediamo Mario e Gianmarco che hanno salzato la mano. Ok. Ciao a tutti. Ciao Mario. Vado piano così abbiamo allarghiamo un po' il tempo visto che Stefano ha paura che si no no se ne è uno vi faccio parlare per tre minuti dai sto scherzando ovviamente niente vabbè sul lancio pazzo concordo ovviamente ma non sul contro urbano perché si vede chiaramente che il corretore parte grazie al lancio pazzo quindi soltanto poi rimedia allo sbaglio di gioco come dice Roberto il catcher tirando poi al lanciatore fa l'out quindi sicuramente c'è l'out a casa 2-1 e non si vede l'avanzamento in seconda ma presumo che si è avanzato in seconda anche l'altro corridore quindi la ovara si 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 io non ci sono andato si vede appena anche se adesso rivedendolo sembrerebbe quasi che il corridore di prima fosse già partito però penso che sia rilevante a questo punto beh secondo me è una volta che hanno fatto l'out la base rubata non la puoi più dare non la posso più dare non conta niente perché invece quello di terza è partito proprio sul lancio pazzo è una scelta difesa comunque Mario noi non vediamo il campo e quindi con il nostro occhio strabico noi avremmo visto dalla nostra postazione il momento della partenza dei corridori faccio solo notare una cosa noi certamente sappiamo che il corridore della terza è partito sul lancio pazzo e ti faccio notare la distanza del corridore della terza che è più o meno analoga della distanza del corridore della prima quindi se dovessi giocare direi sono partiti tutti e due sul lancio pazzo sì sì anche se ecco c'è qualche piccolo dubbio perché sembra leggermente più avanti quello di tre però a questo punto non conta niente perché comunque non si può dare nulla giamma dici la tua no per dire che sono d'accordo con Mario essendoci il lancio pazzo l'out non può essere per colto rubando ma è 2-1 semplice e quello in seconda va per o barra 2 quindi confermo quello che ha detto Mario ecco mi sentite sì sì ti sentiamo io confermo quello che ha detto Mario mi ha anticipato ecco va bene quindi per le relazioni di prima per il gran rule dobbiamo metterlo anche nel tablet quindi non dobbiamo fare niente non dobbiamo nemmeno mettere nel ruolino è solo una cosa che noi abbiamo suggerito ah ok a posto a posto pensavo per ora non c'è una normativa che lo codifichi quindi ah ok perfetto no no era anche per questo che voleva il tablet non te lo fa mettere infatti 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 è posto così a posto grazie posso dire anche una cosa a questo proposito ok sul tablet no ma Stefano Roberto sul ruolino sarebbe bene mettere una nota per far capire bene come è andata la cosa ma alla fine se la palla esce o non esce dal campo non è così fondamentale direi direi di non io volevo chiedere un'altra cosa se posso siamo qui nel conto che mi hai fatto vedere all'inizio prima della giocata a me era sembrato che fosse 1-1 un buon strike è corretto perché tant'ero che poi era 1-2 ci ritorniamo all'inizio guarda lo vediamo qua su in alto guarda sì perché poi alla fine dell'azione sul tabellone vedo due out quindi 1-1 era già presente ma quanti out ci sono in questa azione secondo te secondo me è uno alla fine dell'azione ci sono due out non so se mi spiego due out perché out il battitore perché sventola il terzo strike non può correre è out il caso il corridore ecco questo è importante regolarmentiamo un attimo la discussione se no poi ci parliamo sopra quindi questo è importante perché è la prima volta che lo sento dire questa cosa qui Mario è l'unico che al momento ha detto questa cosa siete d'accordo con lui? Vincenzo sei d'accordo? cioè no non ho capito bene cosa ha detto Mario ma ripetilo Mario sì siccome nel terzo strike svento nel terzo strike quando ha perso non ci ho fatto lo sconto a poco non può correre perché c'è la prima occupata con meno di due out e di conseguenza il strike out è regola e quindi c'è il doppio gioco se il corridore anche in terzo viene minato perfetto ma la mia domanda era proprio quella il conto all'inizio era già di un volo e due strike? confermo questo è il punto di partenza si legge 1-2 insomma quindi sì allora sì allora sì allora sì ok allora riaggiorniamo il nostro allora riaggiorniamo scusate riaggiorniamo c'è il battitore che è out c'è il battitore che ha per regola KSBR che però il catcher poi prende la palla e l'arbitro dice out del corridore dalla terza che va a casa quindi allora cominciamo a vedere un attimo le cose hanno alzato la mano di nuovo la mano e poi Terenzio sì quindi facciamo parlare chi ha qualcosa da dire abbasso la mia vai allora puoi star lì se poi ha qualcos'altro da dire no 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 vi ascolto no in pratica era quello che l'ha detto poi mi ha presiduto Mario ci si erano tutti focalizzati sull'auto a casa in realtà c'era un conto di un ball due strike e quindi era un KSBR KS K girato by rule perché lui ovviamente con la prima occupata era auto automaticamente poi c'è anche la giocata lui il catcher proprio da scuola proprio da regola recupera la palla che ha rimbalzato per terra assiste a casa base il pitcher che è venuto a coprire e l'arbitro dall'out quindi c'è un KSBR un avanzamento per O2 in seconda e l'out a casa per 2-1 ovviamente tutto ed è un doppio gioco perché è tutto senza soluzione di continuità quindi non vorrei citare Boscov ma rigorrerà quando l'arbitro chiama a me non sembra che l'arbitro chiami lo strike out guardalo guardalo invece indica il battitore e chiama il terzo strike te lo riporto un attimo guarda al momento del lanciopazzo e fermerò nel momento giusto questo qui è il lanciopazzo guarda l'arbitro eh no vedi si vede che indica il corridore e chiama il terzo strike strike out ritiro ritiro e questo è il secondo out e quindi il secondo out in infinito perfetto grazie sei d'accordo Terenzio sei d'accordo con Marco che possiamo assegnare un doppio gioco in questa in questa in questa azione ma secondo me sono due azioni separate separate da cosa dallo sbaglio lo sbaglio separa le due azioni lo strike out avviene nel momento in cui il battitore gira la mazza il catcher non riesce a fermare il lanciopazzo e e poi il catcher stesso sana questo sbaglio ma se fosse rimasto il lanciopazzo sarebbe stata un'altra azione sì però l'errore viene esentato quando viene fatto l'out quindi se c'è un errore esentato l'errore non c'è l'errore esentato cosa dice il regolamento dice un errore anche esentato un errore o uno sbaglio interrompe la continuità del doppio gioco questo però è un errore è uno sbaglio è un lanciopazzo non non codificato quindi vabbè andiamo avanti diciamo che forse gli altarini li hanno scoperti gli vogliamo raccontare l'assassino a questo punto a questo punto ci siamo questa è una giocata molto interessante perché ci consente di mettere in luce diverse cose come si diceva ora mi fermo nei momenti salienti dell'azione per rivedere l'ansia ovviamente si è detto lanciopazzo con questo siamo tutti d'accordo la palla batte in terra qui non si vede eccola qua vediamo se riesco a fermarlo ecco la palla batte in terra quindi è un ovvio non c'è giudizio non c'è giudizio sullo sforzo ordinario questo è sicuramente un lanciopazzo e il regolamento nella parte definizione e termini dichiara proprio che questo è solo un lanciopazzo per noi il lanciopazzo noi lo segniamo il lanciopazzo se quel lanciopazzo ha delle conseguenze ma in questo caso le conseguenze ovviamente non ci sono perché c'è il tentativo di avanzamento che viene bruciato appunto viene contrastato dalla difesa con un eliminato l'altro corridore arriva in seconda e così ci siamo quindi la giocata è molto chiara si tratta di applicare a questo punto le cose correttamente quindi con due strike il battitore gira in modo incompleto fa un check swing quasi come si usa a dire ma gira comunque la mazza e l'arbitro chiama il terzo strike abbiamo visto l'indicazione precisa con la mano sinistra l'arbitro con la mano sinistra ha puntato ha puntato il battitore ha detto hai girato e poi gli ha fatto il segno con il pugno del terzo strike e poi ha rifatto un altro pugno una seconda volta per indicare che aveva fatto l'out quindi ha fatto una eccellente gestualità da questo punto di vista hai girato terzo strike out quindi l'arbitro è stato chiarissimo da questo punto di vista il lancio batte a terra come si è detto e il battitore non corre perché è conscio che lui è eliminato per regola come avete detto tutti una volta che abbiamo compreso il conteggio iniziale la regola è chiara il battitore è eliminato quando il terzo strike non è preso dal ricevitore e la prima base è occupata prima che vi siano due eliminati esattamente il nostro caso ricordiamo la 509 a 3 i corridori però approfittano di questo lanciopazzo per cercare di avanzare se l'avanzamento dovesse avere successo allora noi lo segniamo il lanciopazzo altrimenti no infatti ecco che cosa c'è scritto nella regola 9.13 la nostra il classificatore ufficiale addemiterà al lanciatore addemiterà al lanciatore un lanciopazzo quando un rilascio legale bla bla della palla tocca il terreno il piatto di casa prima dell'unice ricevitore non è da lui trattenuta permettendo al corridore o ai corridori di avanzare quindi ci deve essere un lancio sbagliato e un avanzamento dei corridori per poter assegnare il lanciopazzo in questo caso come si è visto il ricevitore recupera la palla assiste al lanciatore che copre il piatto e fa l'auto del corridore di terza quindi c'è stato un recupero come ha detto qualcuno della difesa che ha quindi fatto cancellare questo lanciopazzo e in effetti la 9.13 ancora una volta un commento i commenti di solito sono esplicativi di qualcosa che la regola lascia magari non completamente chiara il classificatore ufficiale non addemiterà un lanciopazzo o una palla mancata che è la stessa cosa se la squadra è in difesa fa un out prima dell'avanzamento dei corridori punto quindi lanciopazzo cancellato il classificatore ufficiale accrediterà l'avanzamento di altri corridori sul gioco come scelta della difesa questo è un secondo punto che è importante che qualcuno ha detto l'altra cosa che voglio dire quindi il lanciopazzo è cancellato secondo la regola e il lanciopazzo lo dico dopo scusate l'altra cosa che voglio dire si parlava di colto rubando e ovviamente colto rubando non è perché ancora una volta dobbiamo cercare di vedere causa e effetto come mai il corridore della terza è venuto via stava rubando casa base oppure ha cercato di approfittare del lanciopazzo questa è la seconda e in questi casi poniamoci sempre la domanda se fosse arrivato salvo avrei dato la rubata se la risposta è sì allora in questo caso è stato eliminato diamo il colto rubando poniamoci sempre questa domanda se fosse arrivato salvo avrei dato la base rubata in questo caso no se fosse arrivato salvo se l'arbitro invece di chiamare auto chiama salvo noi avremmo dato l'arrivo al cassa per lanciopazzo e quindi colto rubando dimentichiamo su questa azione infine l'ultimo commento eccolo qua il lanciopazzo sia pure esentato è uno sbaglio di gioco come diceva giustamente Terenzi è un misplay come dicono nel regolamento la parola inglese che interrompe la continuità dell'azione quindi in questa azione ci sono due out ma non c'è un doppio gioco ed ecco che allora possiamo andare a classificarla come avete detto tutti KS by rule perché è girato è un strike out girato swing e l'arbitro ha chiamato la girata by rule BR al momento questa è la sigla da utilizzare quando saranno introdotte sigle nuove utilizzeremo le sigle nuove e le faremo dovuta pubblicità a tutta la comunità e l'altro eliminato è un eliminato 2-1 allora qui c'è un altro caso da definire abbastanza bene abbiamo letto la regola in precedenza gli eventuali altri avanzamenti sono per scelta della difesa in questo caso c'è un commento no finisco e poi magari si riapre di nuovo la discussione in questo caso il 2-1 è il terzo out dell'azione quindi noi possiamo andare a sindacare eventualmente il corridore dalla prima è arrivato prima in seconda dell'altro ma è comunque ininfluente è comunque ininfluente sarebbe stato influente invece se noi avessimo avuto zero out in partenza perché con zero out l'avanzamento in seconda di quel corridore avremmo dovuto obbligatoriamente segnarlo quindi noi l'abbiamo riportato comunque qui proprio per ricordarlo come si deve effettuare una classificazione su un'azione di questo genere l'ha detto la regola scelta della difesa quale scelta della difesa o barra due e la doppia freccia collega tutte e tre le azioni che abbiamo sui tre giocatori coinvolti nel nostro gioco di stasera Stefano vediamo se i nostri già baldi col microfono aperto hanno qualcosa da dire possono commentare se qualcun altro vuole dire qualcosa può alzare la mano insomma che gli apriamo il microfono qui è proprio scusatevi ma stasera è proprio il discorso del error or misplay nell'originale americano noi avevamo il dubbio se questa cosa fosse o non fosse legittima perché in genere per errore si intende quello di un difensore ma il lancio pazzo e la palla mancata sono falli di batteria come li chiamiamo il regolamento dice esplicitamente che non devono essere considerati errori quindi abbiamo avuto un po' il dubbio se la cosa dovesse funzionare così o scure se il doppio gioco dovesse essere mantenuto abbiamo scritto in America e ci hanno chiarito che a loro gli era già successo che naturalmente quando giochi 2500 gare l'anno ti è già successo nel 1890 una cosa così insomma e ci hanno chiarito che loro applicano la regola del misplay anche in questo caso cioè il lancio pazzo o la palla mancata cioè i falli di batteria che vengano esentati in seguito a un'eliminazione compiuta dalla difesa sono comunque da considerarsi misplay e quindi interrompono la continuità del doppio gioco come cita la regola sui doppi giochi insomma posso? sì certo ok intanto prima una cosa su questa su questa grafica ovviamente se si segna così anche se il terzo out è una cosa in più ma non viene considerato l'errore immagino la grafica ok invece sul discorso sai che io Stefano dico sempre che premetto che io rispetto il regolamento ma a volte lo contesto in questo in questo caso che frequenti troppo burlini te lo dico io in questo caso devo dire che è proprio il lancio pazzo che favorisce il doppio gioco eventuale non è uno sbaglio che però però il regolamento è chiaro insomma sai quante volte il corridore in terza non si sarebbe mosso senza l'errore gioco pazzo si tenevano lo strike out e festa finita la difesa c'ha addirittura c'ha addirittura guadagnato insomma però il regolamento è chiaro in questi casi era solo questo commento che volevo dare giustissimo va bene se nessun altro ha niente da dire potremmo passare al prossimo va bene eccoci qua softball eh passiamo al software addirittura Italia-Olanda vediamo la Greta Cecchetti in pedana e guardate anche qui il conteggio 2-2 i lanci 1-1 il punteggio un out seconda occupata vediamo un po' vediamo la Giulia Longhi sofferente e mi sembra che abbia preso una bella botta come si dice anche qui silenzio per apprezzare i minimi dettagli dell'azione le gestualità degli arbitri sono inequivocabili come è inequivocabile l'affondo dei tacchetti sul ginocchio della nostra terza base ecco rivediamo una volta ancora una volta l'interazione e poi la commentiamo come sempre tra noi grazie a tutti la eliminazione devo dire una bella giocata della difesa dell'italia niente da dire una giocata proprio da manuale ok tanto mentre la facciamo scorrere vogliamo aprire alzato la mano intanto che facciamo parlare lui vediamo se qualcun altro si vuole anche qualcun altro che magari non ha parlato non facciamo parlare sempre soliti insomma anche se di cose giuste allora un ks23 ovviamente sul battitore perché il catcher perde la palla e poi sana lo sbaglio con il tiro in prima il corridore in seconda si accorge del tiro è già lì pronto si vede qua a scattare appena tira il ricevitore lui schizza per andare a prendersi la terza base ma fanno un'ottima azione i nostri difensori con un tiro 35 e eliminano chi corre dell'eliminato 35 collegato con il ks perché è un doppio a mio parere un doppio ecco in questo caso abbiamo abbiamo spaventato questa cosa è il doppio gioco in questo caso pensi che sia un doppio gioco o è la situazione di prima no per me questo è un doppio gioco perché se fosse arrivato salvo avrei messo un occupato una palla occupata lui parte sul tiro lui parte sul tiro per andare a prendere quella terza base e dalla prima base fa un ottimo gioco la difesa rapidissima tiro tam 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 e la limina riesce a eliminarlo nonostante se guardate lui sia fuori già di un paio di metri dal sacchetto il corridore lo si vede qua e quindi lui parte proprio sul tiro come vede tirare va e parte bravi i nostri bravi i nostri che per me è un doppio gioco mi interessava ecco capire come mai no prima hai affermato correttamente che non c'era doppio gioco ma una doppia eliminazione e come mai invece in questo caso ci dici che è doppio gioco la giocata apparente della precedente però non c'è soluzione di continuità tra cosa tra i due tra i due nell'azione non c'è soluzione di continuità cioè non si interrompe non c'è uno sbaglio un misplay o un errore tanto meno anche la palla persa non interrompe l'azione in questo caso perché il corridore parte sul tiro quindi dopo la palla persa non per la palla persa ci siamo parte perché il ricevitore tira parte perché il ricevitore tira a mio parere quasi se guardate lui è qui ho capito cosa intendi terenzio però anche se fosse partito lì non sarebbe stato sarebbe stata la stessa cosa la cosa è un pochino è un pochino più sottile anche se fosse partita per la rubata una volta che la fai auto il doppio gioco c'è lo stesso avremmo avuto magari un cs a quel punto ma il doppio gioco lo davamo lo stesso certo qui la cosa è un filino più sottile sentiamo cosa ci dice mario che ha alzato la mano naturalmente no perché vedo che se vuole intervenire qualcun altro io no mario e non è che li possiamo visto che voi parlate a noi ci fa piacere naturalmente perché non possiamo costringere nessuno non si vogliono sbilanciare speriamo che qualcuno ora sui prossimi video comunque ci trovi in questa azione così per farvi ridere un attimino anche se giulia non rideva molto lì ci sono tre eliminati perché la terza giulia non mi voglio augurare ma sembrerebbe di sì dall'azione che la giocatrice olandese cercava il sacchetto ha trovato purtroppo di notte quindi non voglio poi dopo la commentiamo sta cosa non voglio abbiamo ne abbiamo discusso anche noi commissione tecnica di questa cosa per quanto riguarda questa azione io sono un po di gioco sì o no tanto la domanda è direi la domanda è questa doppio gioco sì doppio gioco no per me è simile alla situazione di prima per cui non dare il doppio gioco perché lei parte chiaramente sulla palla persa non è una differenza fondamentale sulla rispetto all'azione di prima per cui prima non lo davamo e adesso lo diamo così scopriamo gli altarini ha ragione problemi di teresa oppure c'è qualcosa di diverso non lo so sì c'è qualcosa di diverso dici marco ma allora guardando le cose rispetto a prima prima c'è un out per regola c'è il misplay che genera l'arrivo qui c'è il kbp diciamo lui sana il suo errore facendo l'out quindi non c'è l'out c'è l'out con l'assistenza in prima e poi l'assistenza 3 3 5 che crea la continuità dell'azione bravo marco bravo marco nel primo caso il misplay è tra i due out e quindi interrompe la continuità del doppio gioco qui il misplay è prima dei due out tra i due out non c'è nessun misplay quindi la continuità del doppio gioco non è interrotta è tutta lì la differenza il misplay qui sta prima dei due out mentre nell'altro caso dato che l'out è per regola prima c'è l'out per regola poi c'è la palla persa e infine c'è il secondo out quindi il misplay sta tra i due out e quindi la continuità è interrotta qui invece no e quindi un po quello che aveva detto anche terenzio la differenza quasi esatto molto simile si non aveva detto proprio la stessa cosa perché parlava più che altro del corridore però il concetto è più o meno quello alla fin fine il discorso è relativo al fatto che il misplay non deve stare tra i due out il misplay o l'errore o l'errore esentato insomma ecco perché il regolamento dice esplicitamente interrompere la continuità a meno che tra i due out non venga commesso un errore o un misplay o uno sbaglio quindi tra i due out è proprio il concetto fondamentale che cita la regola e qui in effetti la differenza in pratica sta sul fatto che prima la prima era occupata e quindi l'auto automatico veniva per primo qui la prima era libera e quindi il corridore aveva diritto a correre quindi è stato eliminato dopo il misplay né più né meno insomma quindi la chiave per poter interpretare doppio gioco sì o doppio gioco no non sta tanto è partito su un'azione parte sull'altra dobbiamo vedere i due eliminati nel momento in cui avviene il primo nel momento in cui avviene il secondo ci sono degli errori o degli sbagli di gioco dei misplay fra queste due e tra questi due eventi l'eliminato 1 numero 1 e l'eliminato numero 2 in questo caso no perché l'eliminato numero 1 viene fatto in prima base e il misplay come diceva steppe nel precedente l'eliminato numero 2 viene fatto in terza eccolo qua primo auto secondo auto tutto continuo fra i due auto posso aggiungere una cosa roberto vai no forse la differenza del discorso facevo io è partita prima partita approfittando il pb nel caso in cui fossero arrivate salve entrande avremmo dato il pb e non la rubata quella della seconda terza dal mio punto di vista naturalmente anche se qui c'è anche la differenza che se fosse arrivata se fosse partita per per rubare la base e non sulla palla mancata l'auto in terza no va bene non lo so ci stavo ragionando mentre lo dicevo stavo per dirlo ma mi sono fermato perché comunque la palla non è stata battuta però vi lascio col dubbio ci devo ragionare ecco in questo caso no se mettiamo il caso no che invece fosse arrivati più due salve no e quella della seconda terza parte per rubare abbiamo dato una rubata in terza e un pb in kpb in prima o sbaglio sempre se fosse partita per rubare certo sì 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 e quindi sì direi proprio di sì a quel punto e quindi sì avremmo dato il colto rubando se avessimo dato la rubata direi di sì sarebbe stato un cs 3 5 un cs 2 3 5 se non avessero fatto perché si vede chiaramente che parte ok va bene ok sono altri commenti sennò andiamo avanti anche se l'abbiamo veramente sviscerato bene questa azione vado sì direi di sì vediamo la soluzione ok come si è detto linea guida e commenti terzo strike non trattenuto da ricevitore la palla a terra non abbiamo parlato ma tutti hanno detto palla mancata no mi sembrava era veramente una palla di facile presa da parte del del ricevitore quindi sarebbe centrale nel guanto allora il regolamento sotto regolamento sotto come sempre è parecchio più più caotico del regolamento baseball e guardate come se la cava con questa regola del terzo strike non trattenuto regola 5 5 1 il battitore diventa battitore corridore secondo la regola del terzo strike cosa vorrà di non si sa allora andiamo a cercare la 5 1 46 e vediamo che cos'è la regola del terzo strike quando si applica la regola del terzo strike quando ricevitore non riesce a prendere il terzo strike prima che la palla tocchi il terreno e ci sono meno di due eliminati la prima base libera o ci sono due eliminati una regola una maniera molto caotica per dire la stessa cosa che aveva detto in precedenza il regolamento però a parte questo la prima è dunque libera il battitore può partire ma il ricevitore recupera la palla assiste al prima base per l'auto del battitore quindi tutto chiaro a questo punto nel frattempo il corridore della seconda cerca di andare in terza con scarto successo eliminato 3 5 come abbiamo detto una bella giocata la palla mancata è cancellata secondo la regola abbiamo visto prima applicata per il lancio pazzo e anche questa mi sembra qualcosa che odiamo ormai per scontato e per acquisito nell'azione ci sono due eliminati e uno sbaglio di gioco due eliminati e uno sbaglio di gioco però la sequenza a differenza di prima è sbaglio di gioco eliminato eliminato quindi alla domanda è un doppio gioco rispondiamo sì perché la continuità dell'azione non è interrotta dopo il terzo strike non preso lo sbaglio di gioco il misplay la difesa fa due out continui senza interruzione quindi assegneremo senz'altro il doppio gioco in questa azione ed ecco che allora sul ruolino andiamo a assegnare k s 2 3 per l'eliminato in prima e 3 5 con il doppio gioco non ci ho messo il numero dello strike out però vabbè è un piccolo dettaglio che provvederemo nella correzione della 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 slide al momento opportuno k s 2 3 3 5 in doppio gioco commenti no tutto pulito va bene passiamo al prossimo allora giriamo la bo di metà percorso e andiamo a vedere il quarto quarto video allora qui abbiamo seconda e terza occupata e un out seconda e terza occupata un out 0 2 il conteggio via punto pareggio i brewers hanno pareggiato più l'azione ecco il corrido della terza torno a toccare è ripresa belle azione colton wong è in seconda base dei brewers giocava nei san luiz cardinals millimetrico direi proprio millimetrico come dice stefano comunque tanto questo è il lavoro dell'arbitro a noi ci interessa cosa chiama ha chiamato il salvo e ora la castagna è nostra vorrei un volontario diverso dai soliti volontari però chi la sbuccia la castagna se non trovi un volontario io c'ho ancora l'audio aperto ho visto che è ancora la mano alzata no io cioè non me l'avete tolto no no va bene va bene infatti ti facciamo fare l'emplein stasera se si continua così ecco va bene lo stesso però non volevo che diventasse una cosa monocorde chiami qualcuno mi fai chiamare un po' tutti insomma vediamo un po' via ragazzi dai non mi fate chiamare già c'ho la voce un po' così stasera poi passo anche da cattivo che questo sono sicuro che è una maledizione di quelli del corso del corso di primo livello così mi maledicete anche voi e domani sera ho la polmonite Gianmarco anche se anche lui ha già parlato vabbè ha detto due parole e basta l'avevano preceduto quindi Gianmarco ti ascoltiamo con piacere dai ah niente è una volata di sacrificio in foul semplicemente quindi cosa scriveresti SFF3 il corridore che va a casa appunto quindi RBI è una volata di sacrificio volata di sacrificio in foul ok qualcun altro che vuole confermare o sbattire quanto ha detto Gianmarco già che almeno si è sbilanciato per primo vediamo se qualcuno è d'accordo o non è d'accordo perché se nessuno fiata vuol dire che siete tutti d'accordo anche io il microfono è ancora aperto ve lo lasceremo aperto per tutta la serata tanto qui l'andazzo è questo stasera no però lascio la presenza Marco visto che no no io sono d'accordo SFF3 e cazziatone nel dugout i difensori che hanno lasciato la casa base sguarnita lui fa il peste e corri proprio torna guarda questo è proprio da scuola guarda via molto intelligente infatti queste corri millimetrica grandissima chiamata dell'arbitro è riuscito a vedere che guarda guarda tocca e poi gli prende l'altro piede ma proprio l'arbitro lì è stato un grande e che dire bravi bravi bravo bravo il corridore di terza perché insomma bastava che qualcuno andasse su quella base a coprirla per evitare se coprivano il piatto era tutto morto esatto SFF3 non capita spesso ma aspetta aspetta a questo punto ho una posso? sì adesso magari dico una bestialità però non credo la volata di sacrificio non deve essere una volata in campo esterno? sì questo è vero allora cambiamo idea cambia tutto è vero bisogna ammettere che è vero è vero ha ragione Mario ha ragione ha detto una cosa giusta è una volata in campo esterno e questa è una volata all'esterno del campo c'è un'inversione dei termini non è un campo esterno è all'esterno del campo vabbè ti perdoniamo per la battuta carina hai detto dai quindi? quindi niente quindi è un FF3 e il giocatore viene a casa sulla battuta ovviamente quindi c'è un punto battuta a casa su questa azione assolutamente sì ma non c'è la volata di sacrificio non c'è la volata di sacrificio ma c'è un punto battuta a casa punto battuta a casa c'è perché vai vai Stefano punto battuta a casa c'è perché effettivamente è venuto a casa per effetto della battuta però non gli esentiamo il turno alla battuta che gli abbasserebbe che gli abbasserebbe la media in effetti se ci pensiamo è una cosa abbastanza etica è stato molto merito molto più merito del corridore in terza che suo diciamoci la verità quindi l'RDI sì perché comunque l'effetto della battuta è quello non la volata perché obiettivamente se non era sveglio il corridore in terza col cavolo che il punto entrava insomma ecco detto papale papale quindi questo è uno dei casi in cui il regolamento è anche abbastanza etico secondo me sì infatti qui ha approfittato del fatto che casa base era rimasta libera perché non c'era nessuna per cui difesa un po' addormentata e corridore in terza invece parecchio sveglio sì beh io vi volevo far notare se non ci sono altri commenti un paio di piccoli particolari che magari sono sfuggiti e che sono però abbastanza carini su quest'azione che è particolare guardiamo casa base in questo momento c'è un'azione nessuno ha detto niente su questo ma in realtà non c'è niente da dire guardate casa base che cosa succede il ricevitore vedete va a sbattere lo sbaglio sempre perdonatemi eccolo qua va a sbattere guardate l'arbitro che cosa fa adesso chiama salvo che vuol dire questa chiamata di salvo dell'arbitro deve essere ancora presa al volo ovviamente e quindi non ha nessuna relazione con il gioco della presa al volo la chiamata di salvo dell'arbitro indica che l'attaccante o il difensore nessuno di due ha fatto né ostrazione né interferenza di gioco quindi è un gioco per l'arbitro totalmente totalmente regolare totalmente quindi se lo vediamo con le mani aperte è per segnalare questa cosa qua quindi qui la cosa va avanti come si diceva la presa al volo è del prima base l'errore tecnico l'errore tecnico aver lasciato scoperta casa base e quindi ecco che arriva il punto la seconda cosa che vi volevo far notare a qualcun altro anzi mi pare proprio Marco l'aveva già notata la splendida giocata di intelligenza del corridore della terza mandiamolo un po' più avanti e vediamo se lo troviamo dovrebbe stare qui più o meno eccolo qua allora me lo riporto un attimo indietro scusate si vede proprio la giocata perfetta ecco lui torna come si diceva per fare a parte qui è venuto un po' di pasticci scusate ora lo fermo scusate riparti col video da zero mi sa che c'hai chiudi il video e riapri eccolo qua non si riesce a vedere vabbè proverò di nuovo comunque vi volevo far notare come sia stato proprio si sia accorto il corridore del fatto che la casa base stava sguarnita e quindi si è partito inizialmente a velocità non a tutta velocità perché voleva saggiare il gioco poi quando si è accorto che sarebbe riuscito ad arrivare in tempo o perlomeno valeva la pena di provarci vedete sta lì dice mannaggia se lo guardiamo sull'altro replay si vede dice anche dice una parolaccia mentre sul labiale mentre c'è questa questa battuta questa battuta altissima però eccola qua qui si vede bene quando vede casa scoperta che si accorge che vale la pena tornare a pestare e ripartire piano e poi accelera tutta per per ecco bello ecco veramente sono azioni belle da vedere anche da un punto di vista proprio di noi amanti non solo classificatori ma anche amanti del bel gioco del bel gioco andrei avanti allora a questo punto perché mi sembra che abbiamo direi di sì insomma abbiamo più o meno se qualcuno vuole commentare ma l'abbiamo sviscerata abbastanza credo quindi io farei una piccola differenza però prima diciamo le linee guida vai quindi la palla altissima palla altissima vicino al dugout di prima base tre difensori convergono e prima base prende la palla al volo in faul il corridore della terza parte dopo la presa segna un punto millimetrico come ha detto Stefano palla presa al volo e il corridore segna domanda nel quale inizialmente ci eravamo caduti ci sono gli estremi per una volata di sacrificio ecco la regola così la ripassiamo segnare una volata di sacrificio quando con meno di due out il battitore batte una palla al volo giocata da un esterno non è questo il caso o da un interno che stava correndo in campo esterno esterno o da un interno che stava correndo in campo esterno in territorio buono e faul la palla viene presa e il corridore segna dopo la presa quindi questa è la chiave è necessario che la battuta al volo sia in campo esterno indipendentemente da chi la gioca può essere un esterno in campo esterno può essere un interno in campo esterno la cosa importante è che la battuta al volo sia in campo esterno quindi il battitore eliminato io metterei pop fp3 ma questa è una semplice una piccolissima differenza rispetto a quello che è stato detto ma ottiene un rbi più per merito del corridore che per il suo una sola domanda il campo esterno inizia dove finisce la terra rossa per capirci così concettualmente sì convenzionalmente sì ok perfetto grazie teoricamente dovrebbe essere il diamante ma diciamo la convenzione la prassi è quella di considerare dove dove la terra rossa finisce e comincia l'erba quest'anno poi è anche più chiaro pensa al casino che hanno combinato con lo shift è chiaro che la terra rossa per come è scritto ora fa parte del campo interno anche se tradizionalmente per campo interno si intende il diamante allora simbologia attenzione qualcuno ho sentito dire delle simbologie sbagliate allora se la battuta è una battuta f è una battuta p o una battuta l noi mettiamo p3 f3 l3 siccome è una battuta faio paulo la f di faul precede l'eliminazione che noi metteremo naturalmente se la palla fosse in campo in campo buono quindi se fosse stata in campo buono avremmo messo p3 siccome è faul facciamo precedere la f alla alla normale eliminazione non pf3 ma f faul pop 3 ok l'avanzamento poi va per 3 come si è detto un punto un punto battuta stefano no direi nient'altro da dire allora diamo alla 5 non è necessario mettere niente nelle note anche se c'è il dubbio relativo alla volata di sacrificio no volata di sacrificio sì perché il fatto che la volata sia comunque su un difensore interno e che sia stato dato il pop non dovrebbe dare adito a dubbi in merito insomma quindi diciamo che io non metterei niente nelle note per il resto abbiamo detto credo tutto insomma ecco bene basi piene due out penultimo basi piene due out conteggio un ball due strike punteggio 5 a 2 per la squadra che in questo momento è in attacco ci siamo taccio come sempre direi sorprendente ecco questa azione direi sorprendente commento a caldo la rivediamo svuotare le basi senza nemmeno battere e uno e due e ecco il terzo e tre tre punti su quest'azione incredibile da 5 a 2 8 a 2 terzo inning lunga partita quindi allora chi ci prova qui io non vedo niente neppure la chat Stefano stasera purtroppo per ora nessuno no no va bene ora in guai uno dei nostri toscani se no se non barbona benedetto dai su apri il microfono prima un nettonese poi un toscano prima il calacarogna la fa il maresciallo e poi la faccio io così almeno ecco perché non c'è più nessuno non viene più nessuno siamo pochi spero di no sì la stagione che inizia come abbiamo detto ci vuoi dire qualcosa benedetto proviamo a spezzettare quest'azione a vedere se ne capiamo qualcosa allora io direi cioè per me potrebbe essere anche cioè c'ho il dubbio tra un lancio pazzo iniziale e una palla mancata e quello se lo riguardiamo forse ce lo possiamo anche togliere provo a fermartelo un secondo per vedere se comunque la palla va verso l'alto il ricevitore proprio se no abbassa la testa siamo un po' al limite forse eccola qua vedi la palla qua sì vedo pure che abbassa la testa però non è il penalizzo è una delle situazioni dove non è così ginocchio a terra braccio alzato ma non completamente teso palla praticamente quasi nella sacca siamo davvero molto al limite insomma ecco come la chiameresti benedetto te la tua sensazione viscerale un lancio mancato no una palla pazza non lo so non lo so sinceramente non lo so in una situazione in cui siamo anche due strike un ball la chiamata dell'arbitro è chiara gli uomini sulle basi io l'arbitro ha chiamato Botto sì perché si è un lancio pazzo probabilmente ci sta tu opti per il lancio pazzo va bene diciamo che c'è il lancio pazzo continuiamo l'azione lancio pazzo c'è il recupero della palla c'è l'errore di tiro due verso il lanciatore poi recupera la palla il lanciatore che praticamente si fa un sonnellino si fa un sonnellino quindi quindi noi dobbiamo giustificare un primo avanzamento di una base dei tutti e tre i corridori che avanzano le basi successive sul lancio pazzo a questo punto direi secondo te quindi c'hai quello di terza che viene a casa e segna e quello di prima che va in seconda e quello di seconda che va in terza a questo punto devi portarli ancora avanti come ce li porti qual è la motivazione per cui questi continuano a correre quello di terza in questo momento lo porto per un errore di tiro del catcher sul lanciatore però è sì no però è già a metà corsia no quello di terza attenzione quello di terza è quello la sua ok 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 questo che sta in giro un errore di tiro questo qui è quello che era in terza è il primo punto esattamente quindi da questo sbaglio scaturisce scaturisce un tubo che mi salta sempre la cosa scusatemi comunque dicevo da quello sbaglio scaturisce il secondo avanzamento che è questo avanzamento qua giusto? da qui si vede che il corridore che è in terza stava rallentando per raggiungere la terza si accorge del tiro e riparte con rinnovata rinnovata velocità e quindi è l'errore in seconda arriva in terza è lo stesso motivo certo tutti e due sfruttano lo sbaglio l'errore di tiro di ricevitore si accorge del del sonnellino dell'indifferenza però a questo punto solo che sonnellino è parecchio lungo da scrivere nella casellina del ruolino bisogna che ci scriviamo qualcos'altro anche se sappiamo che il motivo è quello o per lo stesso errore lo porto direttamente a casa io direi di no sai perché perché se ci guardi ti accorgi che si ferma e riparte cioè se il motivo fosse il solito vedi che qui si è fermato e poi riparte quando si accorge che il lanciatore dorme e quindi non può essere lo stesso motivo se il motivo fosse il solito avrebbe tirato diritto insomma non avrebbe avuto dubbi nell'andare a casa quindi direi che a questo punto non possiamo sfruttare la stessa motivazione per portarlo anche a casa e che posso dargli l'indifferenza del giocatore l'indifferenza del giocatore diventa forse gli puoi dare un errore errore che tipo di errore però è quello il problema al più è mentale al più è mentale è mentale non lo possiamo dare mentale lo sappiamo quindi qual è il jolly che ci cava le castagne dal fuoco quando ci troviamo in queste situazioni quando l'esempio che facciamo all'estilzione del prima base che si mette a litigare con l'arbitro il corrido in terza va a casa è un esempio abbastanza simile se ci pensate e in quel caso mettiamo barra 3 quindi qui o barra 1 potrebbe essere una soluzione comunque sicuramente è una scelta e la difesa l'errore non lo possiamo dare e non c'è altra possibilità è l'unica situazione in cui possiamo cavarne le castagne Armando e Pinuccia Marco sei ancora lì perché ti sei anchilosato il braccio o vuoi parlare? no no io sto ascoltando va bene no niente hai risolto tutto il problema ma ero indeciso perché l'errore non lo potevo dare e quindi è 1 barra 1 e va bene così l'unica cosa errore 2 o barra 1 mi sentite? sì ti sentiamo ti sentiamo quindi dicevo anche tu opti per il lancio pazzo quindi il primo avanzamento è per il lancio pazzo direi way pitch ho il dubbio sul palapersa lancio pazzo ma visto che era un ball c'è stato giudicato ball sono propenso al lancio pazzo poi il secondo punto entra per errore 2 e il terzo a questo punto entra per o barra 1 io volevo quasi dare un errore 1 ma mi avete anticipato dicendo che che è più giusto di presa di tiro non ci sono errori meccanici non ci sono sbagli meccanici non c'è sbaglio meccanico ma l'errore di testa regolamenta dice che non lo possiamo dare Vincenzo per me è palla mancata ma scusate il terzo punto dico una grossa bestiarità potrebbe essere una rubata perché se fosse successo fra la seconda e la terza un avanzamento fra la seconda e la terza di questo tipo cosa avremmo segnato non è rifatti la stessa domanda se avessi se fosse andato out se fosse stato fatto out gli avresti dato il conto rubando no e quindi non puoi nemmeno dare la rubata spesso quando vengono di questi dubbi è bene invertire l'onere della prova direi di no anche perché siamo abbastanza distanti dal lancio a questo punto sono successe un sacco di cose dopo il lancio ricordiamoci che la definizione di rubata è un corridore che avanza di una base senza l'aiuto di praticamente nient'altro cioè che guadagna la base successiva unicamente facendo facendo guadagno sulle proprie gambe qui in realtà insomma se non ci fosse stato se non ci fosse stato che il lanciatore era distante cioè lui parte dalla terza quando si accorge che che c'ha quasi campo libero insomma si sta sfruttando diciamo una situazione contingente di gioco più che altro cioè se il lanciatore fosse stato in pedana l'avrebbe fatta sta cosa secondo te probabilmente no insomma e dipende da quanto corre veloce sì sì beh diciamo che di piatti di case basi rubate se ne vede poche in una stagione e beh ma di questi video se ne vedono sì ma per carità solo che su 2500 partite dell'anno ruberanno boh 15 piatti forse non lo so sarebbe una cosa interessante andare a vedere però no mi sento dire di no uno perché ripeto se avessero fatto l'auto a casa il colto rubando non glielo avremmo dato quindi già questo serve proprio per toglierci ogni dubbio insomma quindi se non si può dare il colto rubando automaticamente rovesciando l'onere della prova non si può dare la base rubata e poi un'altra sensazione è un po' a pelle siamo abbastanza distanti dalla situazione standard di cui si deve sì l'azione è cominciata molto prima capito con la batteria nelle sue posizioni e via dicendo scusami no dicevo tutto è nato dal lanciopazzo quindi la parte originaria di l'azione l'azione parte tutto dal lanciopazzo sì non è che poi c'è l'arrore poi c'è l'intensità di rubata che poi no quindi parte tutto dal lanciopazzo no i training hanno il fatto che lui non dico ferma ma quasi ferma cioè che abbia rallentato parecchio dopo la terza quindi certo ha visto l'opportunità ha visto l'opportunità certo ha visto l'opportunità se non l'avesse rallentato lo portavamo a casa sull'errore di tiro e ci toglievamo il pensiero perché vuol dire che il gioco era stato continuo a quel punto ci aveva tolto dai problemi però il fatto che lui rallenti e riparti significa che vede che in un primo momento pensava che il gioco fosse finito lì e poi si accorge che il gioco invece può ricominciare perché è intervenuta un'altra casualità un'altra un'altra causa che porta come effetto il fatto che lui tenta di andare a casa e ci riesce anzi a questo punto direi che la base rubata no è abbastanza fuori questione una per una questione regolamentare due per una questione un po' di una di quelle cose che ti senti a pelle insomma quando dai un giudizio su certe azioni il fatto è che comunque a casa non avremmo messo un CS1 se l'avessero beccato avremmo messo uno e basta insomma direi no no colto rubando no base rubata insomma è proprio un'equazione che applichiamo sempre Mario sì no era solo per dire che io propendo più per la palla mancata e per il lancio pazzo ma ho sentito dire che l'arbitro ha chiamato ball ma non penso che sia una cioè un discorso perché l'arbitro chiama ball dobbiamo optare per il lancio pazzo diciamo che può essere un aiuto per noi perché nel senso diciamo che l'area dello strike e l'area di pronto intervento del ricevitore non coincidono l'una con l'altra però quasi tutta l'area dello strike sta all'interno dell'area dell'intervento del ricevitore per cui se senti chiamare strike a meno che la palla non sia rimbalzata per terra 999 volte su mille è una palla mancata se senti chiamare sei abbastanza sicuro se senti chiamare volci puoi avere il sospetto che sia una palla mancata ma non hai il che sia un lancio pazzo ma non puoi avere la certezza cioè sei sicuro che è fuori dell'area dello strike ma fuori di quanto in questo caso probabilmente non fuori di tantissimo da quanto abbiamo visto dal replay quindi boh sinceramente ora ne parliamo naturalmente ne parliamo di questo c'è una post produzione abbiamo fatto anche questo stavolta maresciallo ok allora scusa maresciallo ti ho tonto la parola poi grazie grazie già non parlo mai mi togli pure la parola ogni tanto ci vuole dai per me è una palla mancata vista la serie vista visto il giocatore se un catch di Burlini direbbe subito palla mancata è il concorso e Burlini in Italia è un'autorità in merito esatto se lui dice palla mancata ragazzi è palla mancata non c'è stasera peccato che non ci sia stasera si sarebbe divertito come un pazzo vi saluto che è appena entrato dall'ospedale per sua figlia che sta meglio quindi però me lo sono immaginato tanti auguri anche a loro ecco metto un po' di sale nella discussione l'ultimo avanzamento con la palla in mano al catch al pitch scusate io non darei o bara 2 perché comunque la giocata o bara 1 la giocata c'è il giocatore il lanciatore il lanciatore fa la giocata non è indifferente da quell'avanzamento sai che indifferenza è sempre un termine per me lo porterei sempre con per l'errore cioè chi ha messo in moto la macchina la macchina non ha messo in moto sì però la macchina è partita dal lancio pazzo originario se non perchiamo tutto sul lancio pazzo originario quando i corridori si fermano e ripartono dobbiamo dare lo stop and go l'indifferenza e qui non c'è indifferenza che ti ostini a chiamarla indifferenza chiama la barra e ti togli le castagne dal fuoco chiama la scelta e la difesa chiama la scelta e la difesa ma beh possiamo chiamare pure Pasquale però è una situazione in cui purtroppo ti trovi in una situazione che è simile alla scelta e la difesa è una di quelle situazioni in cui il regolamento ti dice che puoi applicare la regola e la scelta e la difesa è una maniera di uscirne relativamente pulita trovi che gli americani mettono scelta e la difesa by filter choice che non vuol di niente perché tra l'altro in questo caso questo è l'ultimo corridore che era rimasto sulle basi mi dici che razza di scelta la difesa è però infine questo è che viene messo perché l'errore non lo puoi dare perché non lo puoi dare dato che lo sbaglio come abbiamo ripetito un ulteriore avanzamento un altro errore ma che stiamo scherzando non ci possiamo riagganciare all'errore precedente perché ci abbiamo che effettivamente quello tutti si erano fermati e è ripartito un gioco nuovo perché è ripartito un gioco nuovo è evidente non lo vedo il lanciatore è fermo il corridore in terza è fermo i difensori si sono fermati tutti hanno dato per scontato che il gioco fosse finito saranno scordati di averci un altro corridore sulle basi Mare guarda guarda questi cinque rallenta 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 eccolo qua non si ferma rallenta rallenta cammina cammina non si ferma cammina giustamente perché prende ma se fosse come dici te avrebbe continuato a correre non avrebbe nemmeno rallentato ragazzi ripeto non cambia assolutamente nulla è sempre un avanzamento cambia si no finisce per essere legale non legale legale non legale sì vabbè diciamo che in una situazione del genere può tanto i punti diventa guazzabuglio calcolare PGL anche se l'avanzamento sarebbe stato legale non legale ma insomma diciamo che è più preciso secondo me mettere la scelta la difesa perché è uno di quei casi in cui è l'esempio che facciamo a lezione del prima base che dopo la chiamata di salvo se ne esce puliti è buon lavoro era solamente per integrare la discussione no ma va bene assolutamente assolutamente guarda questo confronto io direi di passare a questo punto alle linee guida da questo confronto proprio di opinioni poi emergono quelle che sono giusto appunto le linee guida e poi i commenti i commenti che noi facciamo cioè a uno strike dalla fine inning è uno strike dalla fine inning il lancio non è trattenuto dal ricevitore quindi il punto critico sul quale ci siamo divisi e oggettivamente non c'è la verità rivelata su questo aspetto è lancio parso o palla mancata ricordiamocela anche qui prima abbiamo visto il lancio pazzo il classificatore ufficiale al debiterà al ricevitore una palla mancata quando non trattiene o non controlla una palla lanciata legalmente che avrebbe potuto essere presa o controllata con sforzo ordinario permettendo quindi al corridore ai corridori di avanzare quindi sempre la frase fondamentale dello sforzo ordinario quindi si deve valutare lo sforzo ordinario del ricevitore quindi togliamo da parte burlini e cominciamo a ragionare in maniera il più possibile omogenea la passa scusate la palla passa nella zona di comfort del ricevitore che vuol dire zona di comfort cioè quella zona dove il ricevitore può prendere con sforzo ordinario la palla allora noi abbiamo provato abbiamo fatto un po' di lavoro sopra abbiamo provato a mettere un cerchio più o meno ragionevole dove riteniamo che se la palla passasse dentro quel cerchio il ricevitore di MLB la prende con sforzo ordinario quindi questa dovrebbe essere la regione che divide palla mancata dal lancio pass e questa è la situazione vedete la palla qua su in cima e mettendoci il cerchio la palla sta esattamente sul confine del cerchio quindi la nostra opinione condivisa a livello di commissione tecnica è una chiamata assolutamente borderline ma seppure di poco per noi il lancio è una palla mancata tuttavia come si diceva il tiro dopo il recupero del ricevitore lo stesso ricevitore che ha recuperato è molto sbilenco e è fuori dalla portata del lanciatore questo tiro è la causa che determina l'ulteriore avanzamento quindi l'ulteriore avanzamento come abbiamo detto tutti è per errore 2 di tiro e 2T infine il corridore arrivato in terza che si era come si diceva praticamente fermato apre un nuovo gioco un nuovo gioco che si apre perché la difesa è distratta la difesa non sta a pensare a lui il lanciatore forse pensa accidenti mi entrano due punti di PGL probabilmente o un punto di PGL uno no e segna di conseguenza il terzo punto nell'azione ecco che andiamo quindi a chiudere la nostra visione del gioco palla mancata maiuscolo sul primo minuscolo sugli altri due corridori per il primo avanzamento l'azione continua quindi trattino di continuità errore 2 tiro l'errore destra base con due fra parentesi per legare appunto anche il secondo avanzamento ancora un trattino di continuità e o barra 1 come abbiamo detto per segnalare la scelta della difesa una scelta se vogliamo mentale che ha aperto la possibilità per far segnare il terzo il terzo punto Stefano andiamo all'ultima commenti posso dire solo una cosa solo una piccola cosa mi sarei stupito se tu fossi stato zitto di pure anche questo il discorso della scelta difesa è un po' borderline perché il lanciatore effettivamente dopo si ricorda che se qualcosa da fare ci tenta ma come ti ho detto già il discorso scelta difesa è un po' anomalo se ci pensi c'è rimasto un corridore solo sulle basi chiamare la scelta difesa è un po' un assurdo però è l'unica strada per uscirne in un caso del genere capito sono quei casi in cui la scelta la difesa fanno proseguire sullo stesso errore ma non è vero ma non è vero che proseguiscono sullo stesso errore capito siamo un po' limiti la giocata determinata dall'errore si era esaurita nel momento in cui la palla in mano al lanciatore gli effetti dell'errore si sono esauriti perché tutti hanno raggiunto la loro base e stanno lì se il lanciatore fosse stato più veloce nel rientrare verso il diamante quello sarebbe rientrato in terza a quel punto dopo aver preso passi non è vero che è colpa del ricevitore se quello è venuto a casa perché l'errore del ricevitore si esaurisce in terza è vero però non è colpa del lanciatore perché si è un po' addormentato alla fine è colpa tra virgolette sua però non gli possiamo dare l'errore e quindi la maniera che abbiamo di dire la cavolata l'ha fatta lui senza dargli l'errore è di mettere lo barra 1 che è una cosa che non serve a niente a nessuno serve unicamente a portare a casa il punto senza che ci sia l'RBI senza che ci sia l'errore senza che ci sia il punto guadagnato senza che ci siano altre cose tipo lancio pazzo o basi rubate cioè è una maniera neutra di portare un corridore sulla base successiva senza mettere statistiche invasive a carico dell'attacco della difesa tant'è insomma non c'è molto altro da discutere purtroppo è una scelta di obbligo ci serve un po' esatto un po' un po' politica per evitare di ritrovarsi a non sapere come portare questo corridore avanti Alessandro dico una cosa magari superfluo però ovviamente in questo caso bisogna mettere nelle note lo barra 1 trovare un modo per spiegare altamente raccomandato esatto bravo Alessandro questo è uno di quei giochi dove fa piacere a chi rivede Ruolini capire che è successo lì bisogna anche trovare il modo per descrivere l'azione perché in questo caso ma si può dire che a seguito degli sbagli difensivi della difesa il corridore in terza segna mentre la palla è in mano al lanciatore può bastare anche così alla fine non è che serve una descrizione particolaggiata del gioco capire effettivamente che non è che ci serve di lui guarda quel babbeo del lanciatore che si è addormentato vicino alla linea di faula una formula che dica il lanciatore è andato a recuperare la palla susseguente agli errori della difesa e il corridore approfitta di questo per segnare basta insomma può essere una cosa qualunque ok va bene andremo al sesto andiamo al sesto anche perché sono le 22 quindi siamo stati un po' lunghi sì credevamo di essere lisci stasera invece eri preoccupato ma te lo accenerò un paio dove abbiamo fatto 25 minuti a vista sì 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 va bene via allora io voglio l'accoppiata vincente Mauro e Marcello stasera stresso i poveri i toscani vediamo se tra tutti e due mi rendete fiero stasera ci rendete fieri a me e a Roberto mi sentite? sì una premessa questo è un gioco che molti di voi hanno già visto pochi giorni fa ma che c'è bisogno di rivederlo e poi dopo vi spiego come è mai io ho già le palpitazioni tranquillo allora vediamo anche qui siamo in una condizione di decimo inning parte bassa due a due e abbiamo le basi piene con un out eh vado sette sbaglia entra il punto esatto e finisce la partita siamo nella parte bassa del decimo basta un punto ecco dalla terza che viene appunto la lettura dell'azione è semplice direi allora cominciamo subito a fermarci nei punti salienti mi sembrerebbe uno sforzo ordinario per il difensore anche se corre anche se corre all'indietro però quando la palla la sopra mi sembra una facile presa poi corre sì parecchio ma si trova sotto la palla con il braccio nemmeno tutto allungato per cercare di prenderla mi sembrerebbe uno sforzo ordinario certo io sono d'accordo se qualcuno non è d'accordo lo dica subito perciò darei per sempre quindi quello è un errore all'innovazione di principio è un errore siccome è un errore grande darei anche il sacrificio cioè scusate è un errore decisivo questo è un errore decisivo allora tu hai già detto qualche cosa c'è un out sì quindi c'è una palla al volo in campo esterno sarebbe il secondo out il campanellino suona perciò infatti il campanellino suona perché ci sono le condizioni per il sacrificio allora come dobbiamo ragionare in questo caso Mauro sì ecco per capire ci sono le condizioni per il sacrificio allora come ragioniamo per dare o non dare se avesse preso la palla sarebbe stato eliminato il battitore avrebbe dato il sacrificio al battitore il punto entra però finisce la partita e niente cioè il battitore va in prima per errore sì e però è grande 7 e un SF anche nel quadratino insomma nello scritto via nel quadratino perché non è un una B certo quindi tu dai comunque la volata di sacrificio ma qual è stato il ragionamento no la palla è stata persa ma tu hai valutato che che è uno sforzo ordinario per me ok e per quello hai dato l'errore ma perché hai dato anche il sacrificio l'errore siamo tutti d'accordo perché hai dato anche il sacrificio tu hai valutato ah ma no sì che c'erano le condizioni per poterlo dare e cioè quali sono è quali sono no è questo il punto ah meno di due eliminati e va bene perché ci abbiamo un eliminato solo se mi ricordo bene palla è una volata di sacrificio in campo esterno una palla in campo esterno e è il punto che entra e abbiamo detto che è il punto che entra e soprattutto che il punto sarebbe entrato comunque anche se la se la palla fosse stata presa comunque io avrei dato il sacrificio anche se e secondo te da quella posizione il punto sarebbe entrato comunque sì è molto lontana la palla certo la volata è lunga su una presa del genere con la terza segna quindi ci sono le condizioni è la chiave questa è la chiave del ragionamento continua ecco sì è vero questa è una cosa fondamentale veramente che è molto lontano perciò qualunque cosa abbia fatto il ricevit il il giocatore io avrei dato il sacrificio perché la palla è molto lontana avrebbe fatto in tempo andare a cassa via il corridore di terza e quindi avresti scritto cosa scrivi a questo punto mi senti abbandonato sì ti sentiamo Marcello dai ma perché d'accordo probabilmente ma assolutissimamente assolutissimamente in tutto e per tutto con Mauro altrimenti mi ne spegne dal tuo gau poi dopo ti butta fuori esatto va bene allora cosa mettiamo sul corridore che va a casa e cosa mettiamo sul battitore corridore il battitore corridore lo facciamo andare in prima con E grande F7 no SF eh 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 vabbè quello sì lo mettevo dopo io l'ho scritto qui sul mio fogliettino ma se vedessi il golino lo vedrei meglio SF E E grande 7 sì bravo Marcello esatto E grande 7 e il corridore che è in terza il corridore che è in terza c'ha un appunto va a casa va appunto come? con la battuta del quindi cosa mettiamo? il numero del battitore che è in quel momento nel data benissimo e ora arriva la domanda cattiva naturalmente è un RBI è un RBI naturalmente che è un RBI abbiamo dato la vostra sacrificio la domanda cattiva è c'erano altri due corridori sulle basi che facciamo? li fusciliamo sul posto? ma hanno possiamo mandarli avanti sulla battuta ma è ininfluente perché è finita la partita è ininfluente però attenzione che te il battitore corridore in prima ce lo porti non possiamo mica tenere il corridore in prima è vero è vero prendo la parola io perché qui mi devo scusare con tutti perché questa è una cosa che ho detto sbagliata in convention quindi l'abbiamo riportato questo è un video che abbiamo fatto alla convention e giustamente ci siamo accorti su segnalazioni di Fabio Zaccaria che non so se è qui se no glielo farei direttamente a lui e su segnalazioni di Fabio Zaccaria ho detto una cosa che è una cosa imprecisa è giusto correggerla scusandomi appunto per l'errore che ho fatto cosa abbiamo detto no? la cosa che andando a questo punto al ruolino e soprattutto alle linee guida che dobbiamo fare che dobbiamo tracciare la volata in campo esterno con acceso o devo scollegarmi vuoi rimanere puoi rimanere non è un problema al limite c'è da fare un commento più avanti quindi abbiamo una volata in campo esterno con un out e il punto della vittoria in terza questa è la situazione iniziale l'esterno sinistro si posiziona sotto la palla e la manca il corridore in terza segna il punto e la partita termica la prima cosa che abbiamo fatto è la valutazione dello sforzo ordinario che nessuno ha detto niente Mauro l'ha detto subito al volo è uno sforzo ordinario e quindi la giocata di per sé è E7F però però attenzione che ci sono tutti gli estremi per una volata di sacrificio e l'abbiamo anche questi recitati un'altra volta e la volata di sacrificio questo è il punto fondamentale si può assegnare anche se il battitore non è eliminato quindi anche se non è sacrificato rimane vivo ma si può comunque assegnare la volata di sacrificio ecco la regola l'abbiamo letta prima in un altro modo ora la rileggiamo in modo diverso segnare una volata di sacrificio quando con meno di due out il battitore batte una palla a volo giocata da un esterno o da un interno che stava prendendo il campo esterno fin qui l'avevamo letto l'avevamo letto in precedenza e la presa al volo è sbagliata e il corridore segna se a giudizio del classificatore il corridore avrebbe potuto segnare anche se la palla fosse stata presa al volo ecco la chiave fondamentale noi dobbiamo valutare se l'esterno avesse preso la palla al volo il corridore avrebbe segnato secondo il nostro giudizio la risposta è sì volata di sacrificio la risposta è no è un errore senza la volata di sacrificio un errore è comunque però un errore senza la volata di sacrificio quindi il battitore è salvo per SF e 7 questo è l'errore che avevo fatto io in convention che adesso correggo gli altri corridori sono forzati e devono devono avanzare e non lo fanno sono passibili di eliminazione pensate a questo che stanno tutti gioendo abbiamo vinto abbiamo vinto perché il corridore entra a punto e non e non avanzano l'esterno sinistro recupera tira in terza e fa eliminato quello dalla seconda che è forzato ad avanzare quello dalla terza tira in seconda e fa eliminato quello dalla prima che è forzata ad avanzare in seconda eliminazione forzata due eliminazioni forzate il punto non è valido non è valido quindi questa è una cosa che dobbiamo correggere i corridori sono forzati e devono di conseguenza avanzare allora a questo punto loro avanzano ma per quale ragione avanzano e come li mettiamo li mettiamo con il 4 come abbiamo messo il 4 perché il 4 è un battuto o lo mettiamo in modo leggermente diverso no diverso perché c'è l'errore e quindi come li mettiamo 4 tra parentesi tra parentesi giustamente Mauro c'è un'eccezione in questa cosa qua e l'ho riportata perché appunto quando mi sono accorto avevo sberato ho detto fatemi rivedere un attimo il regolamento così c'è un'eccezione se il punto della vittoria è segnato come risultato di una base ball battitore colpito o qualsiasi gioco che con le basi piene forza il battitore ad avanzare senza il rischio di essere eliminato qui sono forzati ad avanzare ma sono in giopardi come si dice possono essere eliminati se fosse stata una base su ball l'arbitro dichiara finita la partita quando quello della terza segna il punto e il battitore arriva in prima non importa che cosa fanno gli altri questa è l'unica eccezione che ci riporta il regolamento ecco che allora per concludere andiamo a mettere le nostre cose abbiamo detto SF E7 4 e 4 per parentesi in convention hanno detto questi si possono non mettere perché tanto la partita è finita no in realtà vanno messi perché la partita non finisce fino a che questi giocatori sono avanzati anche loro alla loro base perfetto e queste 4 ora la gestisce Stefano la discussione vai vai certo grazie io abbandono il microfono le palpitazioni sono finite salve a tutti ciao Mauro grazie anche a Martello la domanda è questa Stefano non so cioè a noi potrebbe anche interessare relativamente perché tanto dobbiamo fare quello che decide l'arbitro però se in questo caso i giocatori su questo tipo di azione sulla volata mancata così non avanzano quelli forzati ad avanzare che vanno fuori dal campo la partita finisce vanno tutti fuori dal campo comunque anche se non sono avanzati la partita finisce o quando sono usciti loro o quando è uscita la difesa perché la difesa ha la possibilità di fare gioco in seconda in terza finché è in diamante quindi finché c'è almeno un interno in campo e finché gli attaccanti sono ancora in campo la partita non è finita quindi la difesa non è che può uscire poi accorgersi non può uscire e rientrare nel momento in cui l'ultimo interno lascia il diamante la partita è finita cioè la partita è finita è finita nel senso che non ha più la possibilità di rientrare per fare l'out e se non puoi più fare gli out la partita è finita insomma ecco diciamo così diciamo formalmente la partita finirebbe nel momento in cui entra al punto della vittoria però siccome qui ci sono dei corridori forzati la partita non finisce finché i corridori forzati non sono avanzati alle basi che hanno forzate certo se la difesa abbandona il territorio buono il diamante interno prima ancora che i corridori avanzino alle basi successive la partita finisce nel momento in cui il diamante è libero dai difensori insomma ecco perché a quel punto non possono più ripensarci e rientrare quindi ecco fatto ok grazie ok altre domande questo l'abbiamo rifatto proprio perché in convention avevamo preso questa mezza cantonata e meno male che Fabio ce l'ha segnalata per assurdo alla difesa gli conviene quasi lasciarla cadere la palla e sperare che l'attacco si scordi di toccare le basi successive insomma in un caso del genere perché se prendi la volata il gioco forzato non c'è e quindi non hai nemmeno la possibilità di giocartela invece così puoi sempre sperare che c'è sperare ancora ancora se c'erano due out ma con un out solo è difficile che due giocatori si scordino ad avanzare alla base successiva insomma ecco bene se non c'è altro io metto la slide finale quindi con la rivederci alla prossima puntata e vi ringrazio appunto tutti della partecipazione e lascio la parola a Stefano a questo punto allora settimana prossima aiutami Mario perché non mi ricordo più che cosa fate c'è una novità come giorno nel senso che sarà martedì 28 giusto alle ore 21 ci sarà l'incontro con Marco Mazzocchi che è stato pubblicizzato anche alle società e quant'altro ho saputo quindi ci aspettiamo ad avere un pienone speriamo quindi a questo proposito poi credo che dica di sì se nell'articolo di domani che uscirà per questa serata aggiungere anche l'appuntamento di martedì perché poi se lo pubblichiamo martedì due di siamo proprio al limite è un po' tardi sì in effetti va bene mentre tra 15 giorni la commissione tecnica chiude il suo ciclo di conferenze diciamolo pomposamente così con l'ultima l'ultima sessione di caccia all'errore quindi che chiuderà il nostro pre-season quindi chiudiamo lo sprint training e cominciamo a parlare di di campionati insomma a questo punto Stefano anticipiamo anche l'ultimissima che è quella che avremo ancora io certo quella con il libro un bellissimo libro da leggere facile da far leggere anche ai ragazzi proprio simpatico da leggere tutto è una cosa molto interessante quindi anticipiamo questa cosa benissimo va bene a posto quindi se non sbaglio è presentato da Rosi al finito nostra collega che conosce chi l'ha scritto che è una mamma americana che ha scritto un po' un libro sull'esperienza del figlio disabile relativamente al mondo del baseball se ricordo bene io l'ho letto una decina d'anni fa anche più quindi non ho proprio molto carino e divertente anche da leggere perché nella diciamo nel questo problema di questo ragazzo scopriremo delle cose veramente eccezionali va bene signori allora buonanotte a tutti arrivederci